Ok, quindi 50 giri, capita la finale, la prima è la prima posizione, per ancora la prima del Lusco, Casier, queste sono le prime posizioni che passano alla Panamora, l'epidino opposto arriva ancora l'anfleta del Casier, quindi sarà già a segnazione dei punteggi, Berluscon, 8.46 per il volo, 8.30 Sarıni, questi sono i primi punteggi assinativi, adesso l'atleta deve Pelusco, nella prima posizione, Pelusco, Casier con Correzio, quando siamo la campagna e la campagna adesso a Masterno con un leggero margine di vantaggio sui gruppi che si porta adesso in ritiro l'arrivo per questo sprint per i gruppi 2-4 di Natale 8-3 saranno 2 punti in giro rispettivamente ancora 3-3 concorreggio in prima posizione si lancia le stagno siamo a campagna di meno 45 poi l'avete lungatissimo alta la velocità per questa finale al passaggio sarà segnazione del Vintage a estremoto delle concorrenze che si può spuntare 2-4 di Natale 7-3-7 2 punti in punto siamo al passaggio di meno 4-3 quindi campagna per l'elettro che non sta nel futuro che non è più in posizione per l'elettro per l'elettro per l'elettro siamo al recidino posto all'arrivo si va allo sprint del meno 42 2-2 io ho attorno l'elettro 21 dopo l'elettro specificamente due punti in punto per l'elettro di l'elettro di l'elettro che la vacca ma adesso lo volto tutto è compatto e si va al passaggio del Vintage 41 è veramente intensa è alta la velocità risultata delle scaturine nella prima posizione quando siamo rettiline posto l'arrivo ancora attreta delle scaturine prima posizione si va allo sprint del meno 40 e la numero 80 a Palucci 2 punti 2-4 posto Lorenzato adesso è l'atleta dello Statenico Linsani in prima posizione quando siamo all'asso con la campana da 9 39 ancora Statenico in prima posizione si tornava un quartetto di amarsela di Natale si fa sotto però 4 metri di vantaggio per il quartetto che va a spuntare il leno 38 il frutto dello Statenico Linsani 33 Linsani 81 Cacanelli adesso si atterrano Pagonelli in prima posizione con la paluzzina in quarta ancora con il giro margine di vantaggio sul gruppo quando siamo almeno 37 il gruppo di vantaggio quasi compatto campana e Pagonelli diciamo le prime due posizioni si va al rettiminio 8 alla rua abbiamo sentito la campana quindi al passaggio sarà segnazione del punte di tempo però Pagonelli in che punti un punto ancora adesso si cerca un attimo di respiro ma se volete sarà qualche rilancio all'esterno vediamo se il giro partirà all'esterno ancora più è la luce a Pagonelli ultima il giro distrutto ma stiamo nel giro 5 ancora la luce a Pagonelli dal rettiminio in un posto all'arrivo l'uomo all'unica tessina siamo già all'uscita di riva per l'assegnazione del punteggio del meno 34 43 luce scelta Aldino Pagonelli adesso si cambia la manifestazione classifica parziale 6.12 4.2 3 punti pagamento classifica parziale è meno in 33 la tende da 65 in prima posizione gruppo compatto si va a spintare per questo la selezione di punteggio di meno 32 ecco se c'è una rossa ecco se c'è c'è un posto adesso non è che la trega del noale in prima posizione noale con correzzo le prime due in contesto almeno 3 1 parallelo e 2 anni non è stato le prime posizioni un po' lungatissimo siamo al rettilineo posto all'advino sarà volata dei metri ancora la triga dell'unale l'uway si può all'esterno vediamo sarà volata tra l'advino 2 posto sempre l'advino 2 altrove l'uway l'advino è la selezione del proteggio precedente ma già siamo al curva che contano 20 minuti se si rete la campana già di meno 29 ancora la tetra del concorso non è stato minimo queste le posizioni sono alle 20 minuti posto lì ancora l'uway 3 12 ci ci va questo è stato venuto di scato libero di essere io intente a passare all'estral e si va pulata tutto questo è nell'esatto il tour Ottomano Bruno e spettamente il più punto in punto di pulata all'esterno l'incente tra l'unico è ancora classifica parziale Luciani e l'uway nel 6 di 3 di 4 ma si andrà già attaccamani con Luciani Pagaganini le prime due effuzioni andiamo in di set abbiamo sentito la campana ancora Luciani Paganelli si va alla volata del numero 26 ed è volata la 4 di luce 1 Paganelli scusate il punto in punto adesso lo dirò spiro fare e tre di sal andare il primo posto all'unico ancora scato in nico venusco le prime due posizioni ancora tre dello scato nico le prime posizioni stiamo a manetà gara 25 città ma stessica passare 8.10 6 1 1 4 3 3 Ancora Lucia Cagliari, Paganelli, si prende la seconda posizione ed è volata per il minuto 24, 43, 81, Paganelli, ed è adesso il contatto qui dalla Lua e la fede del tempo Rezio, si crea un terzetto, ma qui nello spazio non c'è stato più di trovare un po' di gap, Siamo venuti alla Lua, parati un metro, un coraggio, in una prima posizione, Paganelli, 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 Sani, scusate, l'ho in salto, ma qui adesso la vediamo la seconda posizione, L'ho in salto, positive, l'ho in salto e il parking, caldo, un tetra, l'ho in salto, adesso la vediamo la seconda posizione, La finearingazione va a meno 5. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.